Salve a tutti amici del canale, ben ritrovati in un nuovo video, sono in compagnia dei miei celebri compagni di pesca, Dario e lì c'è Chiara, ma oggi, oggi non andremo a pesca. Voglio far fare loro questa fantastica esperienza dopo quella delle trote, stavolta si parla di micologia, ovvero di ricerca di funghi porcini, quindi già loro hanno avuto qualche piccola esperienza, ma oggi spero, speriamo di condividerla assieme. Siamo in un bosco prettamente di querce, quindi ci saranno sia roverelle che anche lecci, cerri e così via, e dai, speriamo veramente di trovare qualcosa di interessante. Buona visione! Siamo arrivati nel bosco e subito, guardate, bel bombolo, vai Chiara, vai, staccalo tu. No, quello è un tubero, muovi, guardate che bella bomboniera, copriamo il buco, che bel bombolo, è già. Eh, ma non sembra. Siamo quasi vicino al posto che ho segnato col GPS, dove avevo trovato diversi boccioli quattro giorni fa, sono quasi arrivati, e guardate che cosa c'è qui, guarda, madonna da, mamma mia, bombolo, che spettacolo, che spettacolo, raga. Guardate che bombolo, guardate che bombolo, spettacolo, guardate che bombolo, spettacolo, guardate questi, questi, c'è questo cresciuto accanto a questa, c'è una russola, che è bombolo, e poi è questo qua. E allora, ragazzi, ci siamo allontanati con Dario e Chiara, poiché è il posto abbastanza impervio, e quindi adesso vi faccio vedere giusto qualche ritrovamento di bomboniera pure, raga. Allora, guardate, questo è uno, guardate che mostriciattolo, che spettacolo, madonna raga, che spettacolo, come le rocce. Quindi ne abbiamo uno qui, mi è sembrato di intravederne un altro qui, spettacolare. Quindi abbiamo due, ce ne saranno diversi comunque, devo stare attento a non pestarli. Due, li metto qui vicino al cesto, poi abbiamo questo qui che è spettacolare, veramente. Questo è pure spettacolare, ho un gambo che è pazzesco. Che spettacolo. Questo, adesso girerò se non cado, perché ce ne sono altri. Questo e poi ne avevo visto un altro qui. qui. Eccolo lì. Ecco qua. Spettacolo. Spettacolo. Ragazzi, guardate, sto porcino che, tra l'altro, a mio avviso, è bellissimo. C'è il cappello mangiato. Questo è un morso, secondo me, tipico da daino. Pazzesco. Vabbè. Questo porcino è veramente simpatico. Madonna. Pazzesco. Pazzesco. Siamo ricongiunti, finalmente. È possibile rivedere i ricongiunti? Un bombolone. Ma questo è spettacolo. È quello lì. E poi un altro bombolino. Bello. Dai, io non vengo lì perché è pieno di roba. Madonna, che fungo hai trovato? Spettacolo. Vai. Bellissimo. Bellissimo. E allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa giornata, giornata pomeriggio, all'incirca inizialmente divertiti. E che dire? Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella delle notifiche per restare sempre connessi con le prossime avventure, sicuramente inerenti alla pesca, e ci vediamo prestissimo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.